Una short list per favorire la partecipazione di giovani professionisti cavesi nel settore dei lavori pubblici. È questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Cava dei Tirreni che nei giorni scorsi ha dato il via libera alla costituzione di due elenchi di tecnici per l'affidamento degli incarichi di progettazione, esecuzione e direzione lavori, supporto alla progettazione e in genere di incarichi connessi all'espletamento delle attività degli uffici tecnici. Gli elenchi saranno distinti in sezione A per importi inferiori a 40.000 euro e sezione B per gli importi da 40.000 euro in poi ed inferiori a 100.000. A spiegare ai nostri microfoni le finalità di questa iniziativa l'assessore ai lavori pubblici Eliko Bastolla. Abbiamo fatto in prima battuta l'elenco dei fornitori e poi in seconda battuta era un passaggio obbligato il nuovo albo dei tecnici, quindi abbiamo adottato in giunta settimana scorsa gli indirizzi e le linee guida per elaborare l'avviso che l'ufficio sta preparando, quindi questioni di giorni, stiamo aspettando una norma tecnica dell'ANA che deve uscire con questi giorni e quindi esce anche l'avviso di conseguenza sul nuovo albo dei tecnici, quindi parliamo di geometri, di ingegneri, di architetti, perché adesso i lavori pubblici è una macchina in grande movimento, c'è tanto da lavorare, con il personale in organico i lavori pubblici non ce la facciamo, quindi per forza le cose andremo verso l'esterno, quindi ci sarà tanto spazio soprattutto per i giovani, perché l'ANAC dice, giustamente, un aggiornamento corretto, il giovane professionista, il giovane che si avvicina, si affronta il mondo del lavoro, quindi non ha un curriculum da spendere, un curriculum pesante, ma questo giovane professionista non lo vogliamo far lavorare, quindi l'ANAC e noi abbiamo, io soprattutto, siamo andati negli indirizzi che ci ha dettato l'ANAC, faremo in modo che anche il giovane professionista possa acquisire l'esperienza a fianco al grande professionista, al grande nome, quindi ci sarà spazio, abbiamo previsto che il grande professionista faccia da tutoraggio al giovane professionista per far sì che anche il giovane professionista acquisisca quell'esperienza minima indispensabile per poi un domani, diciamo, lanciarsi da solo, quindi ci sarà questa possibilità da parte di tutti, ci saranno nuove progettazioni, collaudi, ci sarà tanto spazio e anche tanto lavoro per tutti i nostri giovani professionisti e non.